Ciao a tutti, questo è un periodo difficile. Ho pensato come poter dare un piccolo contributo alla mia città che mi è sempre stata vicina, ha sempre dimostrato tantissimo affetto ogni volta che entravo in acqua. Quello che mi è venuto in mente è di dare un piccolo contributo a un'associazione che sta lavorando in prima linea alla Croce Gialla, facendo un'asta con gli occhialini, la cuffia e il costume che ho indossato alle Paralimpiadi di Rio nella gara dei Centorana dove ho vinto l'Argento. Adesso io non posso gareggiare per ovvi motivi, ma vorrei fare questa gara insieme a voi. Come sapete le gare durano poco, per cui anche questa durerà pochi giorni, ma gareggiamo per vincere tutti insieme, mi raccomando. Grazie.